Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara è impegnata in un progetto molto importante per lei. Poi, in serata, festeggia il compleanno della sua amica. Nel frattempo, Fedez, è impegnato con le riprese di LOL. Vi lascio al video, buona visione. Oggi set, giriamo un programma che non posso spoilerare, anche se c'è scritto, vabbè, e abbiamo cercato di riunire insieme le dieci persone più divertenti d'Italia, ma soprattutto le uniche dieci che non ti hanno ancora correlato. Sono o non sono un uomo fortunato? Oggettivamente, tanta roba. Tanta roba, quel portatelefono con le parline colorate, è fantastico. Sono un uomo fortunato perché me lo presterà mia moglie. Un desiderio non dirlo, eh. Ciao a tutti.